Il re Davide Il re di Davide La vicenda di Davide comincia sui colli incontro a Betlemme, dove pascola il grece del padre Ieste. E' ancora un ragazzo, ultimo di molti fratelli, tanto che quando il profeta Samuele, per ordine di Dio, si mette in cerca del nuovo re, sembra quasi che suo padre si sia dimenticato di quel figlio più giovane. Lavorava all'aria aperta. Lo pensiamo amico del vento, dei suoni della natura, dei raggi del sole. Ha una sola compagnia per confortare la sua anima, la cetra. E nelle lunghe giornate, in solitudine, ama suonare e cantare al suo Dio. Anche giocava con la fonda. Davide, dunque, è prima di tutto un pastore, un uomo che si prende cura degli animali, che li difende al sopraggiungere del pericolo, che provvede al loro sostentamento. Quando Davide, per volere di Dio, dovrà preoccuparsi del popolo, non compirà azioni molto diverse rispetto a queste. E' perciò che nella Bibbia l'immagine del pastore ricorre spesso. Anche Gesù si definisce il buon pastore. Il suo comportamento è diverso da quello del mercenario. Lui offre la sua vita in favore delle pecore. Le guida, conosce il nome di ciascuna di esse. Dal suo primo mestiere Davide ha imparato molto. Così, quando il profeta Natan rinfaccerà il suo gravissimo peccato, Davide capirà subito di essere stato un cattivo pastore. Di aver depredato un altro uomo dell'unica peccora che lui amava. Di non essere più un umile servitore, ma un ammalato di potere, un braconiere che uccide ed è preda. Un secondo tratto caratteristico presente nella vocazione di Davide è il suo animo di poeta. Da questa piccola osservazione deduciamo che Davide non è stato un uomo volgare, come spesso può capitare a individui costretti a vivere a lungo o isolati dalla società. È invece una persona sensibile, che ama la musica e il canto. La cetra lo accompagnerà sempre. A volte per innalzare a Dio un inno di gioia, altre volte per esprimere un lamento o per confessare il proprio peccato. Il mondo che si presenta ai suoi occhi non è una scena mutta. Il suo sguardo coglie dietro il dipanarsi delle cose un mistero più grande. La preghiera nasce proprio da lì, dalla convinzione che la vita non è qualcosa che ci scivola addosso, ma un mistero stupefacente che in noi provoca la poesia, la musica, la gratitudine, la lode, oppure il lamento e la supplica. Quando una persona manca quella dimensione poetica, diciamo manca la poesia, la sua anima soppica. La tradizione vuole perciò che Davide sia il grande artefice della composizione dei salmi. Essi reccano spesso all'inizio un riferimento esplicito al re d'Israele e ad alcune delle vicende più o meno nobili della sua vita. Davide ha dunque un sogno, quello di essere un buon pastore. Qualche volta riuscirà ad essere all'altezza di questo compito, altre volte meno. ciò che però importa nel contesto della storia della salvezza è il suo essere profezia di un altro re, di cui lui è solo annuncio e prefigurazione. Guardiamo Davide, pensiamo a Davide. Davide è stato tutto questo, insieme. E anche noi registriamo nella nostra vita tratti spesso opposti. Nella trama del vivere tutti gli uomini peccano spesso d'incoerenza. C'è un solo filo rosso nella vita di Davide che dà unità a tutto ciò che accade, la sua preghiera. Quella è la voce che non si spegne mai. Davide è santo, prega. Davide è pecatore, prega. Davide è perseguitato, prega. Davide è persecutore, prega. Davide è vittima, prega. Anche Davide è carnefice, prega. Questo è il filo rosso della sua vita. Un uomo di preghiera. Quella è la voce che non si spegne mai, che assuma i toni del giubilo o quelli del lamento. È sempre la stessa preghiera. Solo la melodia cambia. E così facendo, Davide ci insegna a far entrare tutto nel dialogo con Dio. La gioia come la colpa, l'amore come la sofferenza, l'amicizia quanto una malattia. Tutto può diventare parola rivolta al Tu che sempre ci ascolta. Davide, che ha conosciuto la solitudine, in realtà solo non lo è stato mai. e in fondo questa è la potenza della preghiera in tutti coloro che le danno spazio nella loro vita. la preghiera ti dà nobilità. E Davide è nobile perché prega. Ma è un carnefice che prega, si pentisce, e la nobilità torna dalla preghiera. La preghiera ci dà nobilità. Essa è in grado di assicurare la relazione con Dio che è il vero compagno di cammino dell'uomo, in mezzo alle mille travessie della vita, buone o cattive, ma sempre la preghiera. Grazie, Signore, ho paura, Signore, aiutami, Signore, perdonami, Signore. E tanta la fiducia di Davide che quando era perseguitato ed è dovuto fuggire, non lasciò che alcuno lo difendesse. Se il mio Dio mi umilia così, Lui sa. Perché la nobilità della preghiera ci lascia nelle mani di Dio. quelle mani piagate di amore e le uniche mani sicure che noi abbiamo.